A miei figli ho detto di lavorare, 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 perché credo che le pensioni difficilmente ci saranno per quando loro andranno in pensione, perché la matematica purtroppo è una certezza. Ho detto questo, io sono quasi pensionato, io dall'anno prossimo vado in pensione, idealmente e ovviamente io però partengo in privilegiati, cioè a quelli che avranno una buona pensione se l'avrò per lungo tempo, ma soprattutto che ha avuto la possibilità di guadagnare tanto da non dipendere solo dalla pensione, sono molto dispiaciuto per quelli che vanno in pensione e per le nuove generazioni, anche perché c'è una cosa profondamente sbagliata, cioè noi abbiamo dato, ho fatto un calcolo, che se io avessi dato i miei contributi non allo Stato, ma a un'azienda privata, non cito per non fare pubblicità, ma a un grande gruppo assicurativo, io con un quarto di quello che ho dato allo Stato da oggi avrei 80 mila euro al mese a vita di pensione. Beh, non male. No, nel senso che ho versato talmente tanto allo Stato di Empals, che è il nostro elemento providenziale, per cui l'idea di aver dato, credo io ho guadagnato tanto, ho pagato sempre le tasse, per cui sono, ma sono un privilegiato, l'idea di aver dato parecchi miliardi di lire una volta, per miliardi di euro, e poi alla fine rimangano 1500 euro, forse neanche quello a un certo effetto, diciamo. Ho una becca terribile. Allora, di cosa...